Aleimar è un'organizzazione di volontariato che si occupa di sostenere i minori in difficoltà, senza distinzione di religione, razza e cultura. Insieme ai bambini del mondo è la nostra mission. Abbiamo infatti come obiettivo quello di sostenere i bambini nelle loro necessità, salute, istruzione, disagio sociale e aiutarli a ritrovare il contesto idoneo per la loro crescita umana, sociale e culturale. Uno degli ambiti in cui operiamo si occupa di protezione del bambino. Ci prendiamo cura dei bambini nella loro famiglia naturale o adottiva e in centri di accoglienza. Il nostro obiettivo è quello di garantire loro diritti fondamentali come l'abitazione, il gioco e il diritto all'identità, fornendo loro un supporto alle esigenze quotidiane e a volte fino al raggiungimento dell'indipendenza. Chi ci conosce apprezza la nostra serietà costruita nel tempo con le azioni e i fatti. Siamo una realtà locale, fatta di grandi persone, soprattutto volontari, che a piccoli passi si muove determinata a migliorare la vita di tanti bambini. Entra nel nostro mondo. Visita il sito aleimar.it Scopri con noi quanto vale il sorriso di un bambino.